vediamo un altro esempio ma a questo giro utilizziamo uno script chiamato looking me facilmente reperibile anche online ma vediamo la scena che abbiamo a disposizione abbiamo un percorso al quale associato tramite un pato constraint un operatore speed by icon esso funziona un po come un path follow per le particle standard di 3dx max ma dà la possibilità di essere utilizzato all'interno di un flow a differenza del path follow space warps già trattato nel corso particles 101 inoltre è un oggetto non renderizzabile ma visibile in scena e quindi si può a sua volta linkare ad altri oggetti di fatti abbiamo utilizzato un path constraint per collegare la action al percorso ed avendo così le particles che seguono perfettamente il path da noi creato il nostro intento però è quello di far sì che le particles le nostre geometrie siano direzionate verso un punto di riferimento e che lo servino per tutta la durata del percorso quindi abbiamo bisogno di creare un oggetto che ci aiuti per ottenere tale effetto solitamente prediligo utilizzare oggetti nulli che non vengono renderizzati come locator dammi o point generiamo un point che considero molto versatile data la sua natura e la ricca quantità di parametri e posizioniamolo dove meglio crediamo una volta scaricato lo script look at me facilmente reperibile in rete o nel pacchetto dei download possiamo aggiungere un operator script per poterlo associare al nostro attuale flow a differenza del caso precedente non utilizziamo il board script proprio perché vogliamo creare un'implementazione non generare o personalizzare un moto delle particles dalla nascita quindi inseriamo tale operatore ed incolliamo lo script di nostro interesse dobbiamo però modificare leggermente alcune fasi quindi apriamo lo script ed analizziamolo un secondo in particolare alla voce inizial particles container alla voce global look at target dobbiamo associare il nostro target che sia una geometria o un null object quindi scriviamo il nome del nostro point nelle due righe sottostanti possiamo scegliere gli assi e se invertirli nel caso ci sia bisogno con un true o false con global horizontal rotation possiamo impostare l'asse di orientamento degli oggetti sempre in base alle nostre necessità andremo ad inserire valori positivi o negativi volendo con l'ultima riga possiamo assegnare anche una leggera variazione della rotazione grazie a tutti